Apre in Abruzzo Cassa Depositi e Prestiti. Questo è già un grandissimo risultato perché avere qui la presenza della struttura finanziaria più importante che esiste in Italia significa avere un supporto. Cassa Depositi e Prestiti arriva a Chieti e lo fa grazie ad un accordo firmato con la Fondazione Banco di Napoli che nel maggio 2019 si è fusa con la Fondazione Chieti Abruzzo in Molise. Il nuovo punto informativo inaugurato oggi presso la sede Chietina della Fondazione a Palazzo De Maio si inquadra nell'ambito della più ampia collaborazione attiva avviata con l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio che ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di CDP sul territorio e la cooperazione con le singole fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali. La Fondazione Banco di Napoli si è fatta promotrice di questa iniziativa e ha dovuto farlo qui a Chieti, a Palazzo De Maio, nel cuore della città teatina, per ridare a questa città quel lustro che merita e che sta cominciando a riacquistare dopo aver avuto tante defezioni. È una cosa molto importante questa, noi saremo presenti, siamo presenti, Cassa Deposè e Prestiti farà la sua parte. Il nuovo spazio CDP di Chieti sarà al servizio di più di 3.100 imprese ed oltre 300 enti pubblici abruzzesi che riceveranno un supporto integrato dai consulenti di CDP mettendo a sistema le diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. Creare un punto di pila in Lombardia è cosa difficile, è una operazione ciclopica. Farla qui in Abruzzo è un'operazione più umana, più semplice. Cassa Depositi e Prestiti può fare la differenza. L'individuazione di aree di collaborazione che saranno formalizzate in un protocollo d'intesa sono state trovate anche con Regione Abruzzo per il potenziamento del sistema infrastrutturale, per il dissestro idrogeologico ed interventi post-sisma, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio. Le pubbliche amministrazioni si dovranno rendere proattive in questo confronto con Cassa Depositi e Prestiti e dovranno avere e cogliere così le opportunità di creare quelle infrastrutture che forse nella nostra regione sono ancora carenti. Sono certo che anche aziende meno strutturate potranno adesso avvicinarsi a queste realtà. Sul nuovo spazio di CDP a Chieti è intervenuto anche il neosindaco Diego Ferrara, parlando di un presidio positivo e di un segnale di attenzione e vitalità in questi tempi, così difficili per l'economia del paese. Il sindaco ha concluso poi facendosi promotore con altri rappresentanti degli enti locali per mettere in atto incontri serrati e per sviluppare rapporti di collaborazione continua.